Buongiorno a tutti, avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web tv della Camera dei Diputati. L'ordine del giorno reca l'audizione di rappresentanti di Svimez e Cresme nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia di edilizia. Sono presenti per Svimez il dottor Luca Bianchi, direttore generale, e il dottor Stefano Prezioso, dirigente di ricerca. Per Cresme l'architetto Lorenzo Bellicini, amministratore delegato, e il dottor Francesco Toso, vice direttore. Nel ringraziarvi per la partecipazione all'ordine dell'audizione do la parola al dottor Luca Bianchi. Prego. Sì, circa una ventina di minuti a testa in maniera tale che abbiamo poi dopo il tempo per le domande e le risposte. Grazie. Eccoci, buongiorno a tutti. Grazie mille dell'invito. Noi come Svimez siamo l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno, con riferimento all'oggetto dell'audizione. Ci siamo concentrati in particolare sugli effetti territoriali, con particolare riferimento appunto a nord e sud, centro nord e mezzogiorno, e anche con alcuni dati regionali riguardo l'impatto degli effetti fiscali in materia di edilizia. Ovviamente i dati Enea ci consentono di fare un primo bilancio complessivo delle risorse distribuite per effetto dell'incentivo del super bonus. Ovviamente sono dati che immagino prevalentemente voi conosciate. Ci soffermiamo in particolare anche qui sulla ripartizione territoriale e va sottolineato che nel complesso degli interventi aggiori palati, nel mezzogiorno gli interventi aggiori palati sono stati 115,9 mila, a cui corrisponde un ammontare di investimenti previsti pari a 21,9 miliardi di euro. Quindi la quota mezzogiorno complessiva è intorno al 30%. Questa quota del 30% è una quota che noi riteniamo abbastanza alta, soprattutto se lo confrontiamo con analoghi incentivi, ad esempio per il settore di edilizia utilizzati nel passato, ad esempio appunto questo 30% si confronta ad esempio sugli incentivi per l'eco bonus per i quali la quota sud si era fermata all'11,3%. Come evidenziato anche dall'ufficio parlamentare di bilancio, proprio in questa commissione, questa maggiore percentuale potrebbe essere dovuta al fatto che lo sconto in fattura applicato dal fornitore nel limite dell'importo dovuto e la trasformazione della detrazione in credito di imposta cedibile ad altri soggetti abbia favorito l'accesso al super bonus anche a beneficiari a più basso reddito. Questo che tipicamente hanno maggiore difficoltà di accesso al credito e questo ha determinato di conseguenza appunto una distribuzione delle risorse più favorevole al mezzogiorno dove ovviamente si concentrano più famiglie a basso reddito rispetto ad altri incentivi. Dal punto di vista della dinamica nel periodo del tempo trovata nell'audizione che abbiamo depositato appunto i valori degli interventi di partiti tra 2021 e 2022 e per quanto è fino diciamo con i dati disponibili fino al marzo 2023 va sottolineato che appunto dopo una partenza nel 21 sono stati realizzati investimenti per circa 11,2 miliardi di cui 7,8 miliardi al centro nord e 3,4 nel mezzogiorno nel 22 in contemporanea una forte accelerazione dell'utilizzo dello strumento il mezzogiorno ha aumentato ad un tasso ha segnato una crescita più forte che nel resto del paese soprattutto in termini di numero di interventi mentre il valore degli investimenti previsti cresce nel centro nord più che nel mezzogiorno quindi evidenziando una crescita di dimensione media più forte nel centro nord. I dati dei primi primi mesi del 2023 segnalano invece ovviamente anche per effetto delle modifiche normative un forte rallentamento dei nuovi interventi. Se confrontiamo il dato relativo al primo trimestre 2023 diciamo con un dato medio trimestrale del 2022 essi si riducono complessivamente i nuovi interventi di circa il 32 per cento a livello nazionale ma con una riduzione molto più forte nel mezzogiorno quasi il 61 per cento rispetto al 20 per cento del centro nord. Questa riduzione riguarda anche il volume degli investimenti previsti che infatti risultano sostanzialmente stabili rispetto appunto la dinamica media trimestrale del 2022 nel centro nord più 2,4 mentre al sud si riducono di circa il 40 per cento. Questi dati li riportiamo perché sembrano indicare come il ruolo di freno regato all'incertezza dell'assetto normativo e poi alle modifiche che hanno riguardato in particolare la cedibilità del credito di imposto abbiano avuto un effetto ancora più forte soprattutto nelle aree del mezzogiorno dove come dicevamo precedentemente la cessione del credito aveva costituito l'elemento diciamo nitraino principale. Va segnalato che questo diciamo rallentamento era già evidente nell'ultimo trimestre del 2022 e poi diciamo negli ultimi due trimestri del 2022 in particolare nel quarto e poi si è accentuato nel primo trimestre del 2023. La Svimez abbiamo proceduto a valutare l'impatto economico degli incentivi e in particolare direi soprattutto del super bonus del bonus facciate a livello territoriale sulla dinamica del PIL mezzogiorno e centro nord. Questo esercizio lo abbiamo fatto attraverso un modello econometrico che la Svimez ha da anni costruito e poi implementato che si chiama NMOZ che poi è stato anche regionalizzato e ci permette di dare anche delle valutazioni di carattere regionale. Allora per arrivare a una stima dell'impatto il percorso che abbiamo seguito è stato il seguente allora dal punto di vista perché appunto c'era un problema di conversione dei dati diciamo da competenza a cassa in questo senso allora per quanto riguarda la competenza come punto di riferimento quantitativo abbiamo utilizzato un indicatore che l'Istat rende disponibile che è quella della voce dei contributi agli investimenti pagati alle famiglie. Questo ci dà una prima dimensione quantitativa dell'intervento e in particolare se vediamo appunto che questa voce contributi agli investimenti pagati alle famiglie è passata da una media di circa 4,7 miliardi anzi di un valore cumulato di circa 4,7 miliardi nel 2019-20 a circa 90 miliardi di euro nel 21-22 che ci dà una dimensione che è abbastanza prossima alla somma di superbonus bonus e facciate. Per l'esercizio di malutazione però avevamo bisogno di utilizzare la spesa effettiva di cassa effettuata sul territorio indotto le due misure oggetto di analisi. A questo punto il nostro punto di riferimento è stato l'aggregato Istat degli investimenti in costruzione. In questo caso ovviamente abbiamo la disponibilità dei dati almeno 2022 per il dato di carattere nazionale. Gli investimenti in costruzioni hanno fatto registrare nel biennio 21-22 un incremento complessivo della spesa di investimenti in costruzioni di circa 80 miliardi in valori correnti che rispondono a una crescita di circa al 55%. Tale crescita, lo vedete poi dal grafico presente nell'audizione, rappresenta abbastanza un unicum nella dinamica degli ultimi dicenni con una crescita così forte. Ovviamente la dinamica delle costruzioni tengono dentro non soltanto le dinamiche degli investimenti in edilizia residenziale che è quelli su cui hanno avuto impatto questi due agevolazioni ma chiaramente tengono conto anche della dinamica ad esempio delle opere pubbliche nonché ovviamente di un effetto trend di dinamica che sarebbe avvenuto anche in assenza di tale intervento nonché un effetto rimbalzo dovuto al seguirsi dopo l'interruzione della gran parte dei cantieri in contemporanea con il lockdown del 2020. Quindi questo è un primo punto di riferimento per la nostra stima. Quindi dovremmo in qualche maniera eliminare per avere un impatto reale togliere dalla dinamica complessiva l'effetto appunto di trend e l'effetto di rimbalzo. Per valutare questi due elementi trovate un altro grafico all'interno della nostra audizione che riguarda la dinamica per investimenti in edilizia privata nelle due circoscrizioni. Questo si tratta di un'elaborazione che fa la Svimez sulla base di dati Istat integrati con i dati dei conti pubblici territoriali resi pubblici dall'Agenzia per la coesione. Questo grafico trovato in figura 2 è utile tenerne conto perché ci dà da un lato ci dà conto delle variazioni degli ultimi anni che comunque anche diciamo pre-2020 in cui vediamo che anche negli anni di ripresa pur in un andamento tendenzialmente eccedente la crescita massima registrata nel mezzogiorno nel centro nord non è mai stato superiore al 5-6%. In realtà i dati relativi al 2021 mostrano per quanto riguarda la dinamica degli investimenti in costruzioni residenziali una crescita nel 2021 intorno al 20%. Una crescita del 20% che risulta nel mezzogiorno più alta che nel resto del paese quindi abbiamo un più 25% nel mezzogiorno rispetto a un più 22% nel centro nord a dimostrazione in qualche maniera di un impatto straordinario di una dinamica straordinaria del settore delle costruzioni nell'ultimo biennio dinamica straordinaria che viene confermata sostanzialmente anche ai dati dell'occupazione in questo caso abbiamo i dati forza di lavoro che ci consentono di avere anche un dato relativo al 2022 e complessivamente nel 2021-2022 abbiamo avuto una crescita delle costruzioni di occupazione nelle costruzioni di circa 53.000 unità che anche qui è sintesi di una crescita sostenuta in tutte e due le aree del paese ma appare al più 18% nel centro nord e più 28,6% in quelle meridionali. Questi dati ci aiutano in qualche maniera ad arrivare ad una stima a poter detrarre dall'aggregato complessivo dinamica in costruzione quello che potremmo determinare i tre effetti che vanno sottratti. Da un lato appunto l'effetto rimbalzo post pandemia, quindi comunque una parte di quella crescita è dovuta alla riapertura post blocco della pandemia, dall'altra un trend di medio periodo crescente e dall'altra ovviamente la terza quota che è la quota riconducibile a dinamica delle opere pubbliche. Questo complesso di informazioni ci portano a stimare che del complesso della crescita in costruzioni rilevata nel biennio 21-22 circa un quarto è dovuto a questi tre fenomeni. Quindi per detrazione circa tre quarti potrebbe essere stata indotta soprattutto dall'incentivo oggetto di questa audizione. Se consideriamo, mettiamo a confronto, questo tipo di analisi con i dati disponibili da Enea sul complesso delle risorse erogate, possiamo stimare che complessivamente del totale delle risorse destinate ad incentivare il settore dell'edilizia, circa l'80% è per noi considerato di carattere aggiuntivo. Fatta questa valutazione e valutata questa quota da considerare aggiuntiva, abbiamo appunto attraverso il nostro modello econometrico proceduto a stimare il contributo alla crescita del PIL sia nazionale che ripartizionale. In base a questa analisi il modello ci restituisce questi risultati. Il contributo alla crescita del PIL nazionale è pari nel complesso del biennio a circa 1,9 punti percentuali. Nelle regioni del mezzogiorno il sostegno offerto sale a 2,4 punti percentuali. Nel centro-nord è il risultato pari a 1,8 punti. Su tale risultato pesa in misura prevalente ovviamente il differente peso che ha il settore delle costruzioni nelle due aree, quasi il 32% nel sud contro il 18% nel resto del Paese. Quindi il contributo offerto dal Superbonus alla crescita complessiva del PIL nelle due macro aree si commisura in circa il 17% della crescita complessiva nel centro-nord e nel 27% circa nel sud. La differenza nel peso rivestita dalla detta misura delle due ripartizioni si deve ovviamente alla diversa estensione, a stai maggiori delle regioni settentrionali, rivestita dalle altre attività di mercato diverse da costruzioni, l'industria in senso stretto, i servizi destinati alla vendita, quindi si conferma appunto il ruolo più rilevante in questo senso da parte di vista delle costruzioni. Va aggiunto che questi sono gli impatti valutabili esclusivamente nel bienio 21-22. Su questo va sottolineato che in base alle nostre stime le misure producono un impatto molto concentrato nel bienio o in altre parole di fatto non produce effetti rilevanti di lungo periodo sulla crescita e sull'occupazione. Quindi diciamo c'è un effetto molto concentrato. Altra considerazione che va fatta è che non consideriamo ovviamente l'effetto di anticipo di investimenti sarebbe realizzato in altri periodi, quindi se da un lato questa componente è interamente aggiuntiva nel bienio, cioè è una crescita aggiuntiva in quel bienio, quindi con un forte impatto di carattere, diciamo, anticongiunturale o anzi in questo caso di supporto alla congiuntura positiva del 21-22, dall'altro chiaramente potrebbe essere che una parte di questi investimenti sarebbero stati realizzati ma negli anni successivi. Questo ovviamente il modello non riesce a scontarlo e in qualche misura una lettura complessiva dell'effetto aggiuntivo dovrebbe tenerne conto. Vado a chiudere rapidamente segnalandovi che sempre nel testo rilasciato all'audizione anche attraverso appunto la nostra regionalizzazione, il nostro modello econometrico abbiamo valutato l'impatto per ciascuna regione italiana e il contributo alla crescita complessiva nel periodo 21-22 nelle singole regioni. Chiaramente anche questo fa riferimento a un dato di crescita complessiva 21-22 che è quello stimato dal nostro modello econometrico. Quindi come dicevamo se il contributo alla crescita complessiva nel biennio è circa il 27% nel mezzogiorno complessivo in alcune regioni del sud questa quota cresce anche significativamente penso al 32,7% nella Sicilia, al 32,6% nella Sardegna e circa il 30% in Molise mentre risulta leggermente più basso in regioni a maggior componente di altri settori industriali o dei servizi come ad esempio la Puglia dove il contributo alla crescita è del 24,6%. La stessa analisi è stata fatta anche per le regioni del centro nord in cui rispetto a un valore medio intorno al 17% anche qui oscilliamo tra un valore particolarmente elevato in Toscana dove hanno risultato circa il 23% della crescita del biennio dovuto a questo tipo di incentivazione al 20% dell'Emilia per poi scendere a valori più contenuti per la Liguria intorno al 12,5% mentre la Lombardia intorno al 17,4%. In linea generale per chiudere nelle regioni del centro detenzionale le misure di efficientamento energetico hanno sostanzialmente costituito una sorta di innesco per la ripresa dell'attività produttiva questo viene confermato anche dalle nostre previsioni complessive nel PIL che per noi risultano nel 2023 più sostenute nelle regioni del centro detenzionale rispetto al mezzogiorno mentre nel sud l'intensità del contributo offerto appunto è molto concentrato in quest'anno e soprattutto appare complessivamente in qualche misura inversamente correlato all'estensione di altre attività produttive di mercato dove il settore di costruzione è più forte e ovviamente il contributo alla crescita è stato più significativo grazie grazie dottor Bianchi do la parola all'architetto Lorenzo Bellicini poi raccogliamo le domande grazie allora intanto provo si sto provando a proiettare le slide adesso eccole ci vuole un po' ma forse arrivano eccole là perfetto allora innanzitutto grazie per l'invito buon pomeriggio a tutti ok adesso mi sentite va bene anche noi abbiamo lasciato un documento adesso verrà spedito così potete poi distribuirlo voi ne avete una copia ho preparato però delle slide che ci aiutano un po' a capire il nostro punto di vista rispetto a questo tema complesso che tocca non solo il 110% ma dobbiamo renderci conto che gli incentivi sono anche altri infatti forse una prima questione è questa di cominciare a leggere questa mappa complicata di cosa sono gli incentivi perché noi parliamo tanto di super bonus parliamo di facciate abbiamo gli eco bonus e poi abbiamo il 50% il 65% tutta una platea di modalità di intervenire incentivati sul settore della riqualificazione del patrimonio edilizio che hanno determinato una mappa molto complessa e rispetto alla quale è anche difficile avere un quadro di dati dettagliato questa è la storia praticamente di questi incentivi che sono partiti nel 1998 con un 41% poi un 36% dal 2013 le cose sono cominciate a cambiare e come vedete dal 2013 sostanzialmente al 2020 con la pandemia non c'è stata una grossa contrazione mediamente sono stati attivati con gli incentivi precedenti 28 miliardi di euro all'anno questi numeri sono facili da stimare perché praticamente sono dal 2013 attraverso i bonifici bancari lo Stato preleva praticamente una quota della spesa e quindi i numeri sono come dire disponibili ecco vedete il salto del 2021 e 2022 che ci porta nel complesso degli incentivi dai 28 miliardi di media all'anno 2013-2020 in 2020 sono stati 26,4 miliardi di euro si è perso 1,6 miliardo con la pandemia un primo rimbalzo a 66,4 miliardi di euro e un secondo rimbalzo a 94,5 miliardi di euro questi sono sostanzialmente gli incentivi che sono stati attivati in quell'anno attenzione qui stiamo parlando di investimenti non di disponibilità non dei dati dell'Enea perché i dati dell'Enea praticamente hanno a che fare con le asseverazioni e non con la trasformazione tanto è che in questo 2023 contrariamente a quello che si possa aspettare non ci saranno effetti di frenata sul mercato perché l'onda del 2022 è stata così alta che si sta attuando praticamente nel 2023 e anche con un pezzettino nel 2024 tanto per avere un quadro di riferimento nel 2022 questi sono gli incentivi praticamente tradizionali che sono cresciuti del 44% salendo a 38,4 miliardi di euro nel 2021 rispetto ai 26 che dicevamo prima del 2020 54 miliardi di euro nel 2022 con un altro più 41,7% abbiamo una leggera frenata a gennaio e però un incremento del 40% a febbraio rispetto al febbraio del 2022 tanto per dire come quest'onda si muove in maniera abbastanza importante i dati sul super bonus li conosciamo qui vediamo la fase espansiva all'inizio di una fase di rallentamento ma i numeri sono ancora importanti ancora marzo del 2023 sono 4,2 miliardi di euro che il super bonus ha portato a casa e quindi l'onda è un'onda importante una cosa credo che sia utile valutare è queste risorse dove sono andate e che tipo di filiera hanno alimentato all'interno del mercato delle costruzioni guardate qui avete un confronto tra quello che era sostanzialmente in grigio la filiera tradizionale della riqualificazione e invece la profonda trasformazione che gli incentivi fiscali super bonus in particolare credito d'imposta hanno introdotto all'interno del mercato sono arrivate le banche con un ruolo decisamente importante il 110% poneva già un 10% in più di costi dovuti all'ingresso del sistema bancario sul mercato ma non solo poi sono arrivate le piattaforme sono arrivati i nuovi soggetti di riferimento allora se noi entriamo praticamente in questo caso nel segmento del super bonus e ci facciamo una domanda fatto 100 le risorse messe a disposizione qui vedete l'analisi che abbiamo sviluppato a giornata ottobre dello scorso anno che era stata presentata a novembre nel nostro rapporto congiunturale noi abbiamo tutto un mondo di tecnici intermediari consulenti che agiscono all'interno di questo mercato con le loro parcelle abbiamo le banche, i revisori, le multi utilities ricordo ad esempio che il mondo della riqualificazione si tratta di interventi di riqualificazione vede la partecipazione di grandi soggetti di consulenziali che non entravano prima nel mercato delle costruzioni e poi c'è il mondo degli impianti e delle imprese di costruzioni e beh se io prendo fatto 100, il 110 io vedo che un 12% è andato alle banche o alle multi utilities un 34% è andato tra IVA, IRPEF, oneri sociali e non mettiamo nel conto gli utili di impresa ricordo che il mondo i consulenti i ragionieri i commercialisti praticamente hanno stimato un 43% di componente diciamo tra oneri tasse legata all'investimento noi stimiamo un 34% è difficile di vedere quanto di di margini di tassazione vanno sui profitti delle imprese è più complicato diciamo che il 34% è un valore assolutamente tranquillo anzi prudenziale un 13% va ai tecnici al netto appunto delle taxe e praticamente all'attività è rimasto un 41% di risorse questo è l'impatto che dal punto di vista della distribuzione delle risorse ha avuto il super bonus che non va solo quindi al mondo delle costruzioni ma a un mondo di servizi molto ampio che si è come dire costruito nell'ambito di questo scenario di mercato poi credo un po' tutti si sono interrogati su questo tema dell'impatto sul sistema economico e sull'occupazione e poi sulla crescita del prodotto interno lordo la Simez ha portato adesso un esempio di questa valutazione allora una prima considerazione è chiaro che la base della riflessione teorica sono le tavole input output vale a dire la valutazione dell'impatto che questo settore ha con gli altri settori economici qui dobbiamo tenere presente un fatto questo settore delle costruzioni come dire normalmente viene valutato per la sua attività specifica senza tener conto che in realtà costituisce una filiera molto molto lunga lavorando appunto sulle tavole input output qui abbiamo usato le ultime tavole dell'istituto nazionale di statistica è un conto abbastanza semplice da fare noi abbiamo investito per ogni miliardo di euro investito nelle costruzioni quindi nell'attività edilizia considerando praticamente i soggetti fornitori di sistemi materiali prodotti componenti che agiscono nel settore delle costruzioni quindi sostanzialmente la filiera diretta collegata direttamente con l'attività edilizia si va a 1,6 miliardi di euro poi ci sono tutta una serie di un mondo di attività attivate indirettamente che sono altri 630 milioni e poi c'è l'indotto praticamente che questa attività produce ancora a valle delle attività svolte naturalmente questo valore che viene molto citato e raccontato quindi un euro vale 3,4 euro in realtà non è così perché qui noi praticamente cosa facciamo raddoppiamo fatturati raddoppiamo valori però oggettivamente facciamo capire quanto questo settore è ramificato all'interno del sistema economico cioè quando noi parliamo di settore delle costruzioni parliamo normalmente di qualcosa che è un valore aggiunto pari al 4,5% non è così perché dobbiamo considerare i valori aggiunti all'interno della filiera che viene attivata cosa che adesso vedremo e allora le cose cambiano naturalmente non abbiamo non raggiungiamo questi valori di 1 3,3 o 3,4 sono più bassi ma sono valori importanti un miliardo di euro nelle costruzioni utilizzando le tavole intersettoriali attiva 8.000 dipendenti 8.000 lavoratori occupati diciamo in maniera più corretta 3.600 8.000 sono diretti proprio quelli che costruiscono 3.600 sono praticamente le branche fornitrici di sistemi prodotti materiali eccetera legati alle costruzioni e poi abbiamo un 3.400 addetti che sono praticamente attivati in forma indiretta attraverso l'occupazione quindi naturalmente l'indotto non è considerato quindi l'attività edilizia muove praticamente questo mondo dell'occupazione decisamente importante che spesso non viene presa in considerazione qui abbiamo fatto la valutazione a ottobre ipotizzando 55 miliardi di euro di super bonus che avrebbero secondo utilizzando questi parametri delle tavole input output attivato 311.000 occupati diretti 141.000 occupati indiretti nelle branche fornitrici e qui ricordo ancora una cosa importante o meglio riprendo questo fatto cioè le costruzioni non sono solo i lavoratori delle costruzioni chi produce i vetri per le finestre praticamente è un'industria chi produce gli impianti elettrici è un'industria cioè tutti questi dati così come il valore aggiunto specifico vanno letti all'interno dell'industria collegata al settore delle costruzioni che vive e opera grazie al settore delle costruzioni e poi anche la distribuzione è legata al settore delle costruzioni quindi diciamo che nel complesso sarebbero 587.000 occupati e 311.000 però diretti quelli che fanno il cantiere edile allora abbiamo degli indicatori che normalmente vengono mal utilizzati o non utilizzati noi abbiamo un dato importantissimo che è parziale perché riguarda le casse edili del nostro paese quindi è un mondo un segmento del mondo delle costruzioni un segmento strutturato però si tratta nel 2020 di 468.000 occupati sono 468.000 occupati con una massa salari di quasi 5,8 miliardi di euro bene questi 467.000 occupati e ripeto questo è molto importante perché sulla massa salari vengono poi di tratte delle risorse che servono a finanziare il sistema delle costruzioni quindi particolarmente rilevante questo dato e l'attenzione che c'è su questo dato allora 468.000 lavoratori nel 2020 che diventano 537.000 lavoratori nel 2021 con un incremento del 14,5% faccio notare che le ore lavorate sono aumentate del 30% così come la massa salari che è aumentata del 30% in un solo anno e nel 2022 si sale a 629.000 occupati con un ulteriore del 17,5% dei lavoratori e di un 20% delle ore lavorate e di un 22% della massa salari il che vuol dire che tra 2020 e 2022 io ho avuto solo per gli iscritti alle casse edili 161.000 occupati in più ma non ci accontentiamo perché chiaramente l'Istat ci fornisce una serie di dati sul tema dell'occupazione del settore delle costruzioni diciamo che il dato più tranquillo storicamente è quello della rilevazione degli occupati tramite la rilevazione delle forze lavoro è una rilevazione un po' particolare e complessa perché si rivolge alle famiglie è storica e che cosa ci dice questa rilevazione ci dice in realtà che tra 2022 per farla sintetica al 2020 noi abbiamo avuto 199.000 dipendenti in più 24.000 indipendenti in più per un totale di 223.000 occupati però l'Istat con la sua rilevazione riporta praticamente il dato all'universo degli occupati delle costruzioni perché come ripetevo come ho detto prima il mondo delle casse edili è un segmento del mondo delle costruzioni non tutti gli operatori del mondo delle costruzioni sono iscritti alle casse edili faccio un esempio molto chiaro tutti noi abbiamo bisogno di un idraulico e sappiamo che gli interventi di riqualificazione edilizia sono in gran parte anche interventi di impiantistica elettricisti e idraulici non sono iscritti alle casse edili perché hanno un altro contratto hanno un altro tipo di attività ma sono tra i principali attori del mercato delle costruzioni allora se l'istat mi dice che gli occupati totali sono aumentati del 16% e e invece le casse edili mi parla di un più 34% perché non applichiamo i dati delle casse edili al totale del settore delle costruzioni e beh allora i dati cambiano in maniera abbastanza significativa perché ci troveremo di fronte a un incremento di 458 mila occupati e posso dire che questo dato non è particolarmente forzato il problema è che c'è una come dire la necessità di una lettura molto attenta di dati che ci vengono forniti anche da fonte ufficiale perché chiaramente voglio dire sicuramente mentre cresce il settore delle costruzioni è difficile molto difficile che crescano di più le casse edili rispetto al settore come dire generale del settore delle costruzioni la filiera complessiva del settore delle costruzioni sapendo anche le caratteristiche che ha registrato praticamente il mercato della riqualificazione edilizia l'importanza dell'impiantistica che c'è stata dicevo prima che però c'è un altro tema di valutazione che riguarda praticamente il valore aggiunto tralascio anche noi abbiamo un modello anche noi abbiamo le nostre modalità di costruire le stime qui la faccio più semplice lavorando sulle tavole input output fatto su un miliardo di euro aggiuntivo negli investimenti nel settore delle costruzioni 355 milioni sono valore aggiunto diretto delle costruzioni 237 milioni sono valore aggiunto delle branche fornitrici 226 milioni sono valore aggiunto indiretto e poi ci sono 280 milioni di euro di valore aggiunto indotto si dirà se io avessi attivato questi investimenti in altri settori l'indotto ce l'avrei avuto sì ma devo considerarlo anche per il settore delle costruzioni perché devo toglierlo e a questo punto praticamente fatto 1 l'investimento in costruzioni il valore aggiunto è 1 e 10 un 10% in più non è un cattivo investimento un 10% in più ma dobbiamo tenere presente che questo settore non è quel piccolo settore che normalmente viene considerato ma questa filiera molto lunga che si allunga praticamente dentro il sistema economico del nostro paese è questo che molti esperti di economia fanno fatica a capire perché stringono praticamente il settore delle costruzioni nel loro terreno che è solamente quello della cantiere edile con le imprese e gli addetti che lavorano nel cantiere edile in realtà l'impatto sul sistema economico è molto più grande se noi lavoriamo praticamente sul tema del valore aggiunto abbiamo un impatto significativo in termini di risorse sul mercato chiudo con l'impatto degli investimenti sul prodotto interno lordo allora noi abbiamo fatto un conto semplice più semplice perché intanto parlo anche ai colleghi della Svimezzo che mi capiscono penso che ci sia un problema enorme nella valutazione di questo settore oggi nel determinare i costi di inflazione del settore se andate a vedere che i tassi di inflazione sono stati utilizzati nella contabilità nazionale sono tassi che ci sorprendono rispetto a quello che sta succedendo sul campo dell'inflazione quindi probabilmente per fare una valutazione più tranquilla è meglio lavorare oggi in valori correnti e affrontare il tema dell'inflazione da un'altra parte allora abbiamo visto che secondo le nostre stime stiamo parlando nel 2022 di 94 miliardi di euro e nel 2021 di 66,4 miliardi di euro allora conto semplice semplice nel 2020 il PIL italiano a valori correnti è stato di 1659 miliardi 1660 miliardi nel 2021 è stata di 1786 e nel 2021 e nel 2022 è stato di 1910 miliardi di euro il che vuol dire che nel 2020 il paese ha perso 137 miliardi di euro nel 2021 gli ha guadagnati ha guadagnato 126 miliardi di euro e nel 2022 c'è altri 124 miliardi di euro allora se prendiamo in esame gli interventi totali praticamente considerando le quote di investimento quindi prendendo il super bonus che nel 2021 è stato di 11 miliardi di euro e gli altri incentivi che sono stati di 35,4 miliardi di euro sono praticamente l'incremento rispetto all'anno precedente stiamo parlando di un 28% di contributo alla crescita del prodotto interno loro del paese nell'ambito del conto nazionale che mette insieme gli investimenti col prodotto interno loro nel 2022 nel 2022 praticamente il PIL complessivo il contributo dei due tipi di incentivi alla crescita è stata del 22,6% quindi è oggettivamente un segmento di è stato un investimento che ha contribuito di maniera significativa alla crescita del PIL del resto quando la Svime dice 1,9% diciamo se uno va a fare i conti non stiamo considerando che voi considerate l'80% però anche su queste osservazioni che sono state fatte giuste Banca d'Italia ha addirittura ipotizzato 50,50 ma io faccio una valutazione su quello che c'è stato se non fosse così dovrebbe come dire valutiamo è un investimento valutiamo il ritorno di questo investimento e chiudo con è costato beh sì è costato tanto certo che è costato però a questo punto il tema è capire quanto è costato e valutare correttamente i costi benefici non è non deve essere valutato secondo noi come un incentivo deve essere valutato come una politica di investimento pubblica bisogna capire con un'analisi dettagliata che dovrebbe essere fatta e può essere fatta se questo investimento conviene oppure no perfetto la ringrazio non so se ci sono persone prenotate per parlare non ci sono ancora prenotate per parlare se qualcuno scusi allora prego non le voglio pagano no io non ho domande anche perché entrambi i soggetti auditi hanno riportato all'interno di memorie e di accompagnamento una puntualità nell'esposizione dei dati e una chiarezza nel profilo identitario nel costruire la valutazione che per quanto ci riguarda ci appaga moltissimo e ho compreso anche soprattutto nell'audizione ultima del Cresme anche la differenza di impostazione che peraltro però era riportata anche dallo Svimez rispetto all'analisi che viene fatta da alcuni enti statali come l'ufficio parlamentare di bilancio e Banca Italia che se non ho compreso male mi pare di comprendere diciamo si attengano più propriamente al settore marcato dell'edilizia senza considerare tutti i sottosettori della filiera produttiva che in un modo o nell'altro corrispondono all'esecuzione dell'intero programma e ho trovato particolarmente interessante la splittatura che ne è stata fatta rispetto al valore delle varie poste in gioco dei vari costi della misura quando andate a distinguere il valore diciamo del costo reale e quello invece relativo alla tassazione diretta o indiretta che dir si voglia perché anche in quel caso è evidente che in realtà tutta la parte relativa alla tassazione diretta e indiretta di fatto sono risorse che rientrano all'interno dell'entrata dello Stato quindi da questo punto di vista penso che ci siano stati degli elementi molto utili per la scrittura della relazione conclusiva grazie prego l'onorevole Comaroli sì grazie io avrei una domanda da sottoporre al di là di queste imprese edili che si sono hanno fatto la scelta di operare nelle ristrutturazioni del 110 però io so che tante altre imprese edili che non effettuavano i lavori contemplati da quello che era il Superbonus si sono ritrovate a diciamo una specie di un mercato drogato nel senso che si sono visti effettivamente tanti prezzi faccio l'esempio una piccola impresa edile che non effettuava il 110 ma costruiva delle case eccetera non poteva più sottoporre all'utente finale che aveva commissionato il lavoro i prezzi che invece vigevano prima ma con degli aumenti folli molte volte folli ci sono ci sono altre domande prego architetto allora scusa prego norevole Carmina ecco finalmente no volevo chiedere voi avete fatto ma penso di poterla rivolgere a entrambi una valutazione sull'effetto moltiplicatore differenziando differenziando il nord il centro e il sud avete anche calcolato una differenza di incremento con riferimento al pille di queste zone cioè quanto si è incrementato il pille al sud al centro e al nord rispetto a questi investimenti perché evidentemente venendo meno il superbonus certamente ci sarà un decremento in queste zone bisogna capire anche in che percentuale grazie prego architetto penso che a questa risponda la slimez allora la questione per quello dicevo il tema dell'inflazione è un tema molto importante la variazione prezzi che ha sicuramente toccato il settore delle costruzioni in termini valutabili intorno a un 35% di incremento dei costi però da che cosa è determinato innanzitutto è determinato da una ripresa della domanda mondiale nel 2021 superiore alla capacità dell'offerta che ha inciso praticamente su delle materie prime faccio solo l'esempio dell'acciaio del tondino dopodiché nell'autunno del parte finale del 2021 è iniziata la questione energetica che ha inciso sui costi in generale e certamente che cosa è successo che nel momento stesso in cui dopo la pandemia praticamente scatta una ripresa della domanda che è superiore a quella a cui l'offerta è in grado di rispondere ebbè arrivano questi incentivi così importanti allora quindi praticamente quello che succede nel settore delle costruzioni è un insieme praticamente di meccanismi che poi vengono distribuiti su questa filiera lunga per cui questo aumento che passa da basso continuamente continua a crescere che determina oggettivamente anche una fase speculativa importante all'interno del mercato quindi c'è una ragione oggettiva che peraltro ha toccato l'inflazione anche nel settore delle costruzioni anche in altri paesi europei che praticamente non avevano gli incentivi sul sistema italiano praticamente la domanda è stata così grande che non si trovavano più prodotti bisogna aspettare ancora oggi sei mesi per avere un certo tipo di prodotto per le costruzioni e quindi chiaramente in una filiera lunga c'è stata anche una componente speculativa quindi certamente ha inciso da questo punto di vista incentivi così importanti in tempi così stretti questo è un altro dei problemi di questo tipo di interventi non si possono schiacciare in fasi molto strette interventi di questa natura perché il sistema dell'offerta non riesce a rispondere in qualche modo alla domanda che si genera però la lettura corretta praticamente di questa crescita di prezzo è legata a tre fattori domanda mondiale sulle materie prime energia che incide sul sistema produttivo maggior domanda rispetto all'offerta e anche fenomeni speculativi mi scusi solo una precisazione e non c'è anche un altro dei componenti essendo contributi che erano al 110 quindi una rilevanza della non curare effettivamente quello che era il prezzo reale perché non c'era controllo da parte dell'utente che quindi una cosa che se doveva spendere lui 10 effettivamente c'era una valutazione diversa che no un secondo prima della risposta c'era un'altra integrazione da parte del Pagano sulla scia della domanda della collega Comaroli a cui ha già dato una risposta ma avete delle rilevazioni empiriche sull'aumento dei costi dei materiali per l'adilizia anche in altri paesi dove non esistono incentivi similari a quelli italiani come il super bonus 110 allora alla prima osservazione sì certo che c'è anche questo l'ho detto nell'intervento naturalmente ma non solo il 110% e 10% in più di costi dopodiché è chiaro che a differenza di come è nata questa legge è partita noi abbiamo fatto per la commissione ambiente della camera una valutazione lo scorso anno dell'impatto e la stima era di 8 miliardi di euro perché perché se andate a leggere bene la legge all'inizio era molto difficile da attuare molto difficile da attuare con molte performance da ottenere e quindi sarebbe stato un intervento molto piccolo sul mercato e sarebbe stato difficile come dire non considerare il tema dei costi che praticamente sono stati una componente in più che è arrivata ma rispetto a uno scenario che è quello che è tracciato noi facciamo parte di un raggruppamento europeo di 19 istituti di ricerca ci incontriamo ogni 6 mesi potremo vedere un attimo se queste cose riusciamo ad averle sappiamo che comunque i costi sono aumentati anche da loro non abbiamo credo in questo momento nessuna analisi puntuale però potremo vedere magari di farvela avere prego rispondendo all'onorevole le stime sono state fatte anche a livello territoriale abbiamo le stime di impatto appunto come dicevo sia per nord-sud che per singola regione ovviamente questo comporta anche moltiplicatori territoriali diversi che dipendono appunto dalle caratteristiche della struttura produttiva di quel territorio e il nostro modello tiene conto sia degli effetti diretti che degli effetti indiretti e indotti quindi a tempo anche l'effetto ad esempio dell'incremento dei redditi conseguente ai consumi che si attivano per effetto di quella spesa quindi per quanto possibile tiene conto di tutti gli elementi con riferimento ovviamente a cosa succederà nel futuro chiaramente questo è un incentivo che concentra la sua attività quindi quello è l'impatto diretto sul biennio va detto che contariamente alle regole di finanza pubblica nei modelli noi mettiamo le risorse nel momento in cui vengono spese quindi come diceva il dottor Bellicini c'è un effetto trascinamento nel 23 sicuramente ancora di spesa e quello impatterà ovviamente sulla crescita però chiaramente sarà un minore impatto negli anni successivi grazie se non ci sono ulteriori domande dichiaro chiuso l'audizione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti